buongiorno a tutti e benvenuti allo psicologo in vita oggi abbiamo qui con noi roberta bruzzone roberta bruzzone psicologa forense criminologa consulente scientifica in diverse trasmissioni di attualità e grazie di aver accettato questo invito oggi parliamo di come riconoscere un narcisista manipolatore dunque innanzitutto ne possiamo incontrare diversi di narcisisti eh sì purtroppo non c'è una categoria che si salvi dalla presenza di questo tipo di personalità fondamentalmente quindi possiamo incontrarli in famiglia possiamo incontrarli nelle relazioni affettive possiamo incontrarli nelle amicizie possiamo incontrarli nel lavoro possiamo incontrarli nelle nostre attività ludiche più diciamo amicali sono sono in mezzo a noi insomma e purtroppo sono molto diffusi ok si può dire che esistono narcisisti benigni o maligni allora credo che il narcisismo vada sicuramente differenziato esiste un narcisismo benevolo diciamo sicuramente quello che ti porta ad avere autostima un'autostima sana che si base effettivamente sulle qualità che possiedi e che giustamente ti riconosci insomma quell'autostima che ti porta a credere in te a sapere che sei in grado di affrontare le difficoltà che anche davanti a situazioni comunque complesse sei in grado di tirar fuori delle risorse per superarle insomma quella parte lì che ti porta a essere consapevole delle tue qualità e anche dei tuoi limiti e a voler in qualche modo vederle riconosciute è certamente una parte probabilmente riconducibile a diciamo aspetti narcisistici però che possiamo considerare certamente benevoli perché non non si basano e non hanno come presupposto il fatto di danneggiare qualcuno con la menzogna o con comportamenti distorti volti in qualche modo a ottenere dei vantaggi che non meritiamo di ricevere per cui la distinzione tra la parte benevola e malevola del narcisismo è principalmente nella tipologia di bisogni che alimentiamo attraverso questo tipo di aspetti ossia quando il bisogno è di controllare l'altro di esercitare potere sull'altro di portare l'altro a sviluppare un'idea di sé negativa e comunque degradata e svalutata quello certamente un narcisismo di tipo maligno ed è quello di cui dobbiamo imparare a diciamo accogliere i segnali più presto possibile ok ok possiamo dire che se esistono delle fasi in cui le fasi in cui si sviluppa la reazione con il narcisista se si può se ci sono delle fasi sicuramente anche abbastanza individuabili la prima immancabilmente a prescindere dal tipo di relazione con un narcisista quindi a prescindere che sia una relazione di tipo affettivo o diciamo sentimentale o anche di altro tipo perché fondamentalmente poi la modalità è sempre molto simile assistiamo alle medesime modalità ad esempio anche all'interno di gruppi settari dove il capo il leader carismatico è un soggetto narcisista ossia una fase iniziale meravigliosa la favola proprio dove la futura vittima viene bombardata di stimoli favorevoli complimenti attenzioni continue comunque manifestazioni di stima di riconoscimento di affetto di amore quindi all'inizio una cosa meravigliosa e questa fase dura diversi mesi perché è la fase che porta la vittima la futura vittima a convincersi di aver incontrato una persona meravigliosa e come ben sappiamo insomma noi che ci occupiamo di psicologia da tanti anni è difficilissimo superare la prima impressione perché la nostra mente è una mente progettata per risparmiare energia cognitiva quindi quando pensiamo di aver capito che abbiamo di fronte facciamo tanta fatica a cambiare idea sarà successo a ciascuno di voi magari aver incontrato una persona che inizialmente vi è sembrata o estremamente simpatico estremamente antipatico e poi nel corso del tempo conoscendola meglio con l'impressione iniziale magari ha un po' scricchiolato no? Ebbene è complesso cambiare idea bisogna insomma portare una persona effettivamente a sperimentare tutta una serie di aspetti abbastanza concreti il narcisista lo sa quindi nella fase iniziale della relazione investe moltissimo tempo moltissima energia per portare la futura vittima a pensare di aver incontrato una persona stupenda meravigliosa capace di un amore devoto incondizionato purtroppo una recita e la parte più difficile nell'aiutare le vittime di manipolazione è proprio quella di portarle a convincersi in maniera profonda che effettivamente la persona meravigliosa che pensavano di aver conosciuto e amato o a cui si sono affezionati in realtà non è mai esistibile fase che c'è sempre esaurita questa fase in cui il soggetto comincia a capire che effettivamente la persona comincia a dipendere dal legame con lui a quel punto comincia la seconda fase ossia quella della confusione perché il soggetto comincia a mettere in campo dei comportamenti che sono assolutamente discordanti rispetto a quelli che metteva in piedi fino a poi quindi finché era poco prima eravate la persona più bella del mondo più sexy più attraente quant'altro e improvvisamente comincia a criticarvi esattamente per le stesse cose per cui prima le apprezzavo no quindi un vestito troppo corto piuttosto che un atteggiamento non magari che prima veniva considerato in maniera piacevole attraente addirittura viene svalutato e considerato in maniera assolutamente negativa improvvisamente quindi la vittima va in confusione comincia a sviluppare angoscia la confusione la porta a ritrattare un'idea di se stessa con se stessa perché non vuole mettere in discussione il fatto di aver incontrato una persona meravigliosa che non ci riesce a fare quel tipo di passo e quindi cosa fa comincia a mettere in discussione se stessa quella è la seconda fase che introduce poi la terza quella peggiore in cui effettivamente il manipolatore prende il controllo della vita e della mente della sua vittima e la sgretola pezzo dopo pezzo giorno dopo giorno ok già alcuni comportamenti ce li ho un po' anticipati ci sono dei comportamenti tipici del narcisista le chiedo anche se c'è differenza anche con il sesso femminile allora no non credo che ci siano differenze sostanziali nel senso che quando abbiamo a che fare con un narcisista sia non c'è un copyright di genere le dinamiche manipolatorie di matrice narcisistica possono svilupparsi tanto in donne che in uomini e purtroppo anche in fasce d'età piuttosto piuttosto precoce abbiamo il narcisismo si manifesta nel ciclo di vita ivi compresa l'infanzia e l'adolescenza quindi purtroppo non c'è diciamo una fase in cui siamo al sicuro e non ci sono grosse differenze dal punto di vista della modalità con cui si manifesta nelle donne piuttosto che non negli uomini le dinamiche manipolatorie appoggiano su un presupposto il manipolatore narcisista ha bisogno di nutrirsi svalutando gli altri perché la sua un'autostima fragilissima è un io fragile che non riesce a riconoscersi delle qualità che invidia terribilmente le qualità che riconosce negli altri e che per sentirsi bene cioè per soppire quell'angoscia che gli deriva da questa questa sua diciamo consapevolezza di di poca dicevamo non non ci sono grosse differenze nei comportamenti perché i bisogni sono i medesimi negli uomini e nelle donne narcisiste insomma non per questo che non ci sono grosse differenze quindi l'obiettivo è quello di portare la propria preda a cominciare a dubitare di sé a non avere più fiducia nella capacità di prendere decisioni addirittura di non avere più la capacità di fidarsi della propria percezione dei propri ricordi quindi è uno smantellamento che va avanti quotidianamente quindi la vittima viene svalutata su tutto non è capace a cucinare non è capace a fare il genitore non è capace a fare il suo lavoro non è capace a fare l'amica non è capace a fare l'amante non è capace a fare niente improvvisamente tutte le sue qualità vengono disperse non vengono più riconosciute da questo soggetto e l'obiettivo è proprio quello di cibarsi dell'angoscia in cui piomba la vittima perché quell'angoscia li restituisce potere e quel potere gli serve per sentirsi adeguato ok molto brevemente l'ultima domanda se ci sono delle strategie per riuscire ad uscire da queste trappole che crea sono le strategie sono fortunatamente molto efficaci ma appoggiano su un presupposto sia bisogna che la vittima si insomma accetti di passare attraverso un periodo che si chiama astinenza quindi deve accettare che in una prima fase diciamo di distacco da questo tipo di legame sperimenterà una condizione certamente non di comfort deve accettare di poter attraversare quel periodo che dura un periodo abbastanza abbastanza limitato però che obiettivamente può creare tutta una serie di disagi deve attraversare quel periodo attraversato il quale potrà finalmente riconoscere il manipolatore per quello che è e a quel punto non sarà più sensibile alle sue lusing cioè quello che dice ma si baserà solo su quello che fa e basarsi sui comportamenti di questi soggetti la strada maestra per smascherare ok io la ringrazio volevo solo chiederle se per chi ci ascolta se 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 qualcuno è interessato a contattarla può fare il sito internet www.robertabruzzone.com altrimenti una pagina pubblica seguitissima su su facebook si chiama robertabruzzone psicologo e criminologa e lì ci sono tutti i miei contatti quindi insomma sono molto facile da da trovare online io la ringrazio nuovamente di aver accettato e ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo video io la ringrazio nuovamente grazie davvero buona serata io la ringrazio nuovamente grazie a tutti